Si fa male Sorrentino nel riscaldamento, tocca a Iacobucci, primi dieci minuti in cui hai dovuto riprendere un po' le misure, un secondo tempo dove sei stato eccellente. No, va bene dai, questo ho lavorato un mese con il preparatore portiere e con Ale, dispiace soprattutto per Alessandro che si è fatto male perché comunque sta facendo bene e si può fare solo i complimenti a lui perché ragazzo serio, lavora e lo sta dimostrando con le partite che ha fatto. Io mi sono dovuto solo adattare, dovevo fare solo quello e aiutare la squadra. Ci sono riuscito, spero, mi dispiace aver preso gol però abbiamo fatto un'ottima partita. Mi analizzi un po' il gol subito, chiaramente tu non potevi nulla ma secondo te è stato bravo, brava, brava l'Ancona, nello specifico su quella giocata oppure potevate fare un po' di più? Guarda così non lo so perché è stato veloce, ha messo una buona palla, lui ha attaccato la porta bene, l'ha impattata bene, è stato bravo anche lui senza riguardare l'altro so dire. Nel secondo tempo però su Fagioli appena entrato hai fatto un intervento strepitoso, questo ce lo puoi dire? Sì vabbè dai è normale, è quello che devo fare, dobbiamo evitare la sconfitta, è giusto così. Io faccio una domanda Massimo Iacobucci, poi magari riferirò una domanda vostra da studio al portiere del Pescara. Sei un giocatore di categoria superiore, lo dice la tua carriera, lo dice Sorrentino è un po' una sorpresa e tra un po' tornerà Di Gennaro. Ti stai guardando intorno, Pescara fino alla fine oppure dovrai parlare con la società per fare la scelta migliore per tutti? Dico la verità non mi interessa adesso pensare a questo, oggi ho fatto dopo tanti anni l'esordio col Pescara ed è un onore per me comunque la squadra è mia città. Io ho firmato per dare una mano al Pescara, non sto pensando né al mercato né a niente, io vorrei rimanere fino alla fine e dare una mano a questa squadra e farò qualsiasi cosa comunque. Massimo metto il viva voce così vi può sentire Iacobucci per una domanda al portiere Biancazzurro. Vi ascolta. Intanto io voglio fare i complimenti ad Alessandro perché, tanto per come ha parlato, davvero gli fa onore, bravo Alessandro per quello che hai detto su Sorrentino, ma bravo soprattutto perché ti sei fatto trovare pronto, non era facile, non giocavi dal 10 maggio se non vado errato, l'ultima partita di campionato di Serie B col Frosinone al Reggio Calabria a 0-4 e il verdetto finale, ma oggi al di là della grande parata su Fagioli, perché lì senso della posizione top da parte tua, anche un attimo prima, l'uscita spericolata ma efficace su Del Carro, un altro attaccante dell'Ancona, insomma hai salvato porta e risultato anche in quella circostanza, quindi complimenti. Ti ringrazio per i complimenti, ma non è per me, io sono così, ho fatto due anni che l'ho dovuto fare, attaccare la spina subito, non è stato un problema, dobbiamo solo lavorare, questo sono conferme che comunque stiamo lavorando bene, siamo tutti pronti per fare ottime cose, e anche il resto della squadra perché comunque i risultati e le prestazioni sono cambiate, stiamo lavorando bene, e di gruppo siamo andando avanti. Non era difficile recuperarla comunque oggi, abbiamo fatto un'ottima partita, a parte i primi dieci minuti, però l'abbiamo recuperata e potevamo anche portarla a casa, però va bene così dopo che siamo resti in dieci e continuiamo su questa strada che possiamo fare davvero bene. Ho una curiosità breve breve per chiudere, Alessandro, quando nel finale con tanta intelligenza stavi facendo trascorrere del tempo sulle rimesse dal fondo, visto che un direttore di gara dal cartellino non facile, ma facilissimo, è arrivato verso di te minaccioso, tu gli hai detto dai, un altro cartellino mi sembra un po' troppo? No, gli ho detto dai, vabbè, che devo fare? Tanto mi poteva pure ammonire, non c'erano problemi, per me andava benissimo, devo perdere tempo e basta in quel momento.